16 mesi orsono, il 1 gennaio 2015, la provincia di Torino cessava le sue funzioni passando il testimone istituzionale alla città metropolitana. Nuovo ente che ha ereditato da quello precedente le competenze proprie e alcune di quelle delegate dalla regione Piemonte, ma ha anche dovuto dotarsi di un nuovo statuto condiviso con il territorio, definire le zone omogenee in cui quel territorio è suddiviso e nel frattempo gestire l'ordinaria amministrazione, dalla manutenzione di strade e scuole ai centri per l'impiego, da poco passati alla competenza diretta dello Stato. Il rendiconto finanziario del 2015, anno certamente di transizione e consolidamento istituzionale per il nuovo ente, è stato approvato dal Consiglio metropolitano e dalla conferenza dei sindaci dei 315 comuni che compongono la città metropolitana, in un momento in cui l'ente è impegnato a definire, ancora una volta in maniera condivisa con tutte le comunità locali, il piano strategico per lo sviluppo sociale ed economico nei prossimi anni e il piano territoriale di coordinamento per il governo urbanistico dei 315 comuni. È stato un anno fondamentale, un anno molto molto difficile perché stiamo vivendo un periodo di transizione, stiamo chiedendo al governo centrale di riconoscere, Lanci in questo sta facendo una grande battaglia, un ruolo alla città metropolitana anche dal punto di vista finanziario, per essere motore di sviluppo occorrono dei sistemi finanziari diversi. Noi però portiamo un bilancio in questo momento, una revisione, un bilancio consolidato che con tutto quello che la legge ci ha imposto ha però visto più investimenti, ha visto sicuramente un incremento anche nelle spese per dare servizi migliori ai cittadini e soprattutto anche con la nuova contabilità siamo perfettamente a norma e siamo perfettamente in regola. Ovviamente vorremmo fare molto di più e chiediamo che ci sia data non un'erogazione di fondi ma semplicemente che non ci siano dei prelievi nella misura attuale così da permetterci di poter esplicitare tutte le potenzialità che il nostro ente ha per essere davvero quel motore di sviluppo che tutti ci chiedono di essere e che noi vogliamo fare. Oggi in conferenza metropolitana si è discusso di rendiconto del 2015 ma si è parlato anche di emergenza profughi, un tema su cui la città metropolitana ha lavorato, sta lavorando in questi mesi. Sì certo è un tema che ha un carattere epocale, le dimensioni del fenomeno ormai hanno caratteristiche di tipo strutturale e la nostra città metropolitana ha da tempo delle azioni che sono in campo e delle esperienze virtuose che sono in campo. Intanto abbiamo il centro fenoglio della Croce Rossa presso la città di Settimo che è estremamente significativo per ciò che riguarda l'esperienza, la capacità di accogliere un numero enorme di persone che quotidianamente arrivano e che svolge varie funzioni, non soltanto quelle del transito ma anche quelle dell'accoglienza. Ecco proprio con la città di Settimo e con il centro fenoglio la città metropolitana ha avviato un percorso di formazione, abbiamo sostenuto un percorso di formazione che si rivolge a tutte le operatrici, a tutti gli operatori dell'accoglienza per ciò che riguarda le cooperative che hanno questo compito in modo da poter partire attraverso la formazione su un'uniformità anche di informazione e anche per poter svolgere un confronto tra le diverse persone che operano a 360 gradi perché parliamo della legislazione, parliamo dell'alimentazione, parliamo della tratta, cioè di tutti quei problemi o di quei fenomeni che interferiscono con la gestione.